Ciao a tutti e benvenuti in studio. Oggi facciamo questa comparata, proviamo le differenze tra questi due tipi di microfoni USB. Stiamo parlando dello Yeti Blue Yeti X, bellissimo questo microfono, lo terrò infatti, rispetto a quest'altro microfono col quale io pensavo di trovarmi bene, ma questa è tutta altra storia. Parliamo e sto parlando del Rode NT-USB. Partendo da questo vi faccio ascoltare prima i vari tipi di audio con questo e poi passiamo all'altro. Quindi questo è l'audio che io sto attivando e disattivando, quindi sto navigando nelle varie funzioni attraverso il programma Blue Voice, che poi magari vi mostrerò in un altro video per non complicare troppo le cose. Blue Voice è un programma che ci dà la possibilità di poter settare degli effetti, poter modificare delle cose, tra le quali anche questi LED luminosi. Vedete come cambia l'audio? Perché questo microfono ha quattro capsule, quindi questi LED luminosi, il colore di questi LED può essere modificato. Infatti io adesso sto nella funzione stereo, che è quella funzione che permette l'attivazione del canale destro e del canale sinistro. Adesso parlo da questa parte, io mi ascolto ad esempio, mi sto ascoltando di più dal lato sinistro, da questa parte dal lato destro. Quindi c'è questa stereofonicità che ci permette di avere un effetto differente. Passiamo invece adesso in quest'altra funzione, opzione omnidirezionale. Io qui ascolto e sento più cose perché c'è una maggiore raccolta dei suoni d'ambiente. Devo dire che è una sensazione particolare, non adatta in questo caso per quello che sto facendo io. Quindi funzione omnidirezionale per contestualizzare un po' l'ambiente nel quale stiamo a livello sonoro, a livello di sensazioni, di percezione. Naturalmente dobbiamo trovarci sempre in uno studio, in un ambiente comunque insonorizzato, perché deve avere senso il fatto di raccogliere questo mood legato quindi all'ambiente nel quale ci troviamo per trasmettere questa sensazione. Passiamo invece adesso alla funzione bidirezionale. È cambiato ancora l'audio. Questa ad esempio può essere, questa funzione può essere utilizzata quando noi stiamo facendo un'intervista, stiamo posti da questa parte e dall'altra parte c'è l'intervistato. Quindi c'è questa doppia possibilità. Girando infatti il microfono vedete che avremo praticamente lo stesso audio. Ok, adesso invece vi mostro quest'altra funzione che è quella che serve in questo momento, cioè la cardioide. Eccola qui. Questa in effetti è la funzione con la quale poi troveremo un termine di paragone con il Rode NT USB. Quindi ascoltate bene questa parte di registrazione perché adesso inserirò il cavo dell'altro microfono. Ovviamente dovrò togliere questo perché non è possibile poter lavorare e inserire comunque. È possibile poter inserire due microfoni USB? Assolutamente no. Però adesso faccio una prova. Vi faccio sapere. Naturalmente è possibile inserire entrambi i microfoni. Funzioneranno entrambi però ogni volta dobbiamo decidere quale microfono utilizzare. Vi sto facendo quindi ascoltare adesso l'audio di questo Rode NT USB proprio per metterlo a confronto, quindi per farvi ascoltare la differenza, le differenze. Mi piace di questo Rode il fatto ad esempio che lo spinotto delle cuffie sia posto lateralmente mentre sullo Yeti è posto al di sotto. Una cosa manca ad entrambi e cioè il tasto di spegnimento di questi microfoni per cui ogni volta siamo costretti a staccare il cavo USB. Ho inserito nuovamente il Blue Yeti X. Sinceramente lo preferisco al Rode NT USB. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di commentare i miei video, di condividerli, di attivare il tasto di notifica con il simbolo della campanella in maniera tale da ricevere una notifica quando pubblicherò i prossimi contenuti. Come dico sempre per adesso e solo per adesso un saluto da Cesare Fusco e CF Recensioni. A presto!